Ormai è notizia passata per quanto sia straordinaria. Il comune di Mazzarra Sant'Andrea è uscito dalla situazione di distesso finanziario e ora veleggia per la normalità a livello economico. Questa è la notizia nuova, prologo della campagna elettorale per le prossime amministrative, un passaggio che è maturato anche con un bilancio positivo a livello di finanziamenti ed opportunità che la Culla dei Vivai ha saputo assecondare. Io ho già fatto questo ragionamento con la mia squadra, con la mia squadra di assessori, con i miei consiglieri comunali al quale non mi stancherò mai di dire grazie per la fiducia che hanno posto in me. A novembre ci dovrebbero essere le elezioni amministrative che dovrebbero anche coincidere con quelle regionali e la mia intenzione è di ricandidarmi, anche se sono un po' stanco rispetto a quello che è stato fatto, nel senso che quasi cinque anni a questi ritmi sono stati molto impegnativi sia per me che per tutta la squadra di amministratori, che abbiamo portato tantissimo a Mazzara. Io dico che Mazzara è stata rivoltata come un calzino per tutto quello che abbiamo ottenuto, non soltanto per quanto riguarda quel brillantissimo risultato dell'uscita dal dissesto in meno di tre anni, ma anche per la quantità di finanziamenti che abbiamo ricevuto e che hanno consentito di cambiare il volto del Comune stesso.